Il presidente della BCE Mario Draghi ha ripetuto che la banca centrale non ha niente a che vedere con la manovra fiscale presentata dall'Italia per il 2019 e con la discussione in corso tra l'Europa e Roma. Assolutamente non è nostro compito mediare nel negoziato, sono fiducioso che un accordo possa essere trovato, ma è una percezione personale, ha chiarito. Durante la conferenza stampa all'ex governatore della Banca d'Italia è stato chiesto se questa sicurezza venisse dal fatto che fosse in possesso di informazioni di quella stampa. Non era stata messa al corrente, ma soprattutto gli è stato chiesto quale potrebbe essere il suo ruolo, vista la sua conoscenza del paese. Assolutamente non è nostro il compito mediare nel negoziato tra l'Italia e l'Unione Europea, ma alla fine portare le parti ad una qualche forma di accordo è questione di buonsenso. La percezione di ciò che è bene per il paese, dell'interesse per le famiglie e imprese. Il presidente della BCE ha anche detto che è fondamentale per i paesi altamente indebitati rispettare le regole del patto di stabilità e crescita.